Il comune di Roseto pronto a ricorrere alle vie legali se non ci saranno immediate risposte da parte della ditta che sta eseguendo i lavori di realizzazione dei nuovi parcheggi lungo via Colombo, interventi oramai fermi da mesi. Un tratto ad oggi inutilizzabile perché gli stalli presentano una problematica inerente al drenaggio delle acque piovane. Infatti durante le abbondanti piogge si creano grossi ristagni che rendono inutilizzabile il parcheggio di via Colombo nel tratto a sud della pineta Celommi. I lavori di via Colombo furono iniziati quando iniziò il mio mandato, io li ho trovati già iniziati, sono stati quindi conclusi pur con delle perplessità da parte di un comitato di abitanti che non ne condivideva le modalità di realizzazione, sono stati conclusi e tuttavia hanno manifestato a strettissimo giro rispetto alla conclusione delle manchevolezze, dei vizi evidenti. L'impresa che aveva realizzato il lavoro ha in parte riconosciuto l'esistenza di questi vizi con un verbale sottoscritto con l'ex dirigente dei lavori pubblici, ha iniziato dei lavori di sistemazione che però sono da mesi fermi e abbandonati a se stessi. La situazione quindi di via Colombo in questi termini non può rimanere, gli abitanti hanno ragione a protestare per lo stato di degrado in cui si trova una via centrale del mio territorio e quindi è necessario che con l'impresa si faccia un discorso chiaro. Quei lavori vanno conclusi, vanno ampliati, vanno sistemate tutte le manchevolezze di via Cristoforo Colombo. Naturalmente se si riuscirà a trovare una sintonia con l'impresa appaltatrice la si cercherà in tutti i modi. Perché? Perché l'alternativa è il condenzioso giudiziario che notoriamente comporta tempi lunghi, troppo lunghi. Quindi si cercherà di evitare il condenzioso giudiziario ma certamente se non ci sarà sensibilità da parte dell'impresa realizzatrice dei lavori, purtroppo lo sbocco sarà un condenzioso.